Ciao amici! Oggi dobbiamo festeggiare! E che cosa si festeggia? Si festeggiano le 100.000 visualizzazioni! Ebbene sì, anche il mio canale ha raggiunto le 100.000 visualizzazioni, come i canali dei grandi youtuber. Quindi festeggiamo, mettetevi a sedere e diamo il via al Best Of, ovvero il meglio di, una serie di spezzoni tratti dai miei video, che riassumono tutta la storia, dall'inizio fino ad oggi. Buon divertimento! Ciao ciao! Ciao ragazzi! Benvenuti nel mio canale, Michele Marmo, violinista jazz. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao ragazzi! Benvenuti al primo tutorial riguardante il violino. Oggi impariamo come si cambia una corda. Il viaggio di un'attività, il viaggio di un'attività, il viaggio di un'attività. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.